Con l'entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull'indicazione dell'origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta, è scattato l'obbligo di indicare l'origine del grano utilizzato nella pasta. Il marchio mette fine all'inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionale, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro. E' questo il pensiero di Coldiretti, che ha organizzato a livello nazionale il Pasta Day alla presenza del ministro Martina, un provvedimento fortemente sostenuto dalla Coldiretti per garantire maggiore trasparenza negli acquisti e consumatori e fermare le speculazioni che hanno provocato il crollo dei prezzi del grano italiano al di sotto dei costi di produzione e che ha già causato la drastica riduzione delle semine. Ci sono due primi importanti segnali, ha detto il presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro. Noti marchi garantiscono l'origine italiana al 100% del grano impiegato per la pasta, senza dimenticare alcune linee della grande distribuzione e questo avviene anche nei pastifici calabresi sparsi un po' dovunque. Poi vi è il prepotente ritorno delle semine nei grani nazionali antichi come il senatore Cappelli. In Calabria, dopo una diminuzione delle superfici investite a grano, si riscontra un aumento delle semine, in particolare di grano antico, di circa il 25% e questo sta riscuotendo anche un grande interesse da parte dei giovani con diversi esempi di successo.